bentornati allora la lore è quasi terminata il colpevole ormai alle strette come dice prof però i misteri non sono finiti c'è bisogno di tutti voi c'è un piccolo giochino una serie di 12 piccoli enigmi più un grande indovinello finale che comprende tutti i prodotti fisici online e che aggiunge un ulteriore sfida a tutti i giocatori e non ed è proprio dentro a questo set cluedo delitti al maniero chiunque ha l'opportunità di risolvere un mistero una cosa che riguarda il futuro di magic non appena la prima persona al mondo darà la soluzione corretta verrà sbloccato anche un nuovo episodio bonus della storia e si saprà di più sul futuro del gioco qualcuno tra l'altro dei nostri follower nei commenti all'episodio 7 ha intuito e citato il nome di un planeswalker chissà che magari lui qualcosina c'entra ma bando alle ciance su non perdiamo tempo andiamo ad indagare benvenuto a bordo agente e grazie per aver accettato di aiutarci con così poco preavviso abbiamo ricevuto grandi elogi per il suo lavoro di consulente nelle indagini e al momento abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile forse l'avrà saputo ma una serie di omicidi in tutta la città ha fatto sì che l'agenzia fosse un po sotto pressione abbiamo però diversi casi risolti e alcuni di essi sono intriganti alcuni potrebbero non significare nulla altri potrebbero essere qualcosa ma non possiamo saperlo con certezza finché non ci darete un'occhiata pensate di essere in grado di svolgere questo compito assicuratevi di riportare ogni scoperta al detective prof via via che le farete ezrim il capo dell'agenzia con questa intro ci viene dato là per i dodici piccoli enigmi da risolvere sono degli alternative reality game o rg che mixano gli argomenti online con gli elementi fisici per far sì che il giocatore si diverta a 360 gradi a partire da ieri 2 febbraio e per due settimane ogni giorno verrà pubblicato un mystery file sul sito dedicato che trovate qui e anche sotto in descrizione ogni mini rompicapo si dovrà risolvere con astuzia e con l'aiuto di alcuni indizi delle belle easter egg che sono un po sparse dappertutto nei prodotti nelle carte poi ci saranno anche su arena sui social un po dappertutto è proprio gli rg funzionano così inoltre per dare un piccolo aiutino sul sito appunto dell'agenzia ci sarà anche il più classico dei classici la mitica telefonata a casa anzi o forse il 50 e 50 non lo so comunque un pulsante che è chiedi ad alquist quindi lì si può chiedere aiuto alla soluzione di ogni indovinello quando si pensa di aver la risposta giusta basta inserirla nel sito e vedere se il caso è risolto come dicevamo questi primi 12 mystery file sono giornalieri e sono dei casi minori indipendenti uno dall'altro e possono essere risolti in qualsiasi ordine l'ultimo invece il tredicesimo a quanto pare richiederà la risposta a tutti i precedenti e porterà alla ricompensa finale che sarà condivisa per tutti i giocatori del mondo quindi c'è anche una sorta di collaborazione barra gara per arrivare in fondo per comodità noi qui abbiamo raccolto tutti gli indizi che siamo riusciti a trovare e ve li proponiamo così da averli tutti sott'occhio il video l'abbiamo pensato di dividere in tre parti nella prima vi mostrerò tutto quello appunto che siamo riusciti a trovare senza dare troppi però indizi o spoiler nella seconda parte vi mostrerò le soluzioni che sono già state trovate nella terza proviamo a trarre anche delle conclusioni cercando di arrivare a delle meta soluzioni quindi cose che magari non sono ancora da risolvere adesso ma che si potrebbero presupporre per il futuro quindi è una scala di spoiler crescente quindi la prima no spoiler un po di spoiler nella seconda e potrebbero esserci spoiler o rovinarvi delle sorprese se volete risolvervi tutto da soli nella terza quindi siete avvisati l'altra cosa è quella che ho dovuto raccattare tutto quello che ho trovato in giro in questi giorni quindi alcune cose non sono neanche super chiare a me ma il materiale appunto è capitato qui sulla mia scrivania in questi tre giorni quindi prendetelo come viene e io cerco di darvi tutto quello che riesco alcune conclusioni probabilmente saranno sbagliate quindi questo è un bel disclaimer dove ho preso i dati un po in giro social reddit alcuni blog e a volte anche da qualche vicolo buio quindi potrebbe esserci qualsiasi cosa quindi andiamo avanti dai diamoci un occhio partiamo dal primo indizio quello più ovvio che è il dado incluso nel bundle già si era visto nelle nella grafica negli screenshot di presentazione ma avendocelo qui si può vedere che mancano i due numeri il 2 e il 16 in più il foglio che è incluso insieme al dado nel bundle dice che tramite il 2 e il 16 si può trovare lo schema diabolico quindi viene detto poi di seguire i simboli quindi bisognerà appoggiare il dado usarlo come calidoscopio illuminarlo con qualche luce particolare di questo enigma abbiamo già un'idea di soluzione che vi esporremo nella seconda parte quindi questo è l'enigma la soluzione dopo il mystery file che qui viene detto che è collegato è ruby ruse cioè lo stratagemma rosso lo stratagemma color rubino secondo l'art inclusa nei box nei vari box sicuramente nel play almeno c'è questa artwork che ritrae un pezzo di vetrata il disegno è chiaramente un visual puzzle le istruzioni qui dicono di seguire il percorso lungo i bordi dei vetri senza mai incrociarsi e il numero di crepe in ogni pezzo di vetro indica quanti lati di quel poligono devono essere utilizzati per il percorso come si vede nell'esempio qui anche di questo si è già giunti ad una soluzione e si è già tracciato un percorso verosimile lasciamo anche questa dopo ai no spoiler così se volete risolverlo potete farlo voi il mystery file collegato è the world window quindi la strana finestra la finestra misteriosa sono così terzo i kit pre release quindi quelli che si sono incominciati a vedere da ieri sera da venerdì sera lì dentro siccome sono diversi c'è una storiella che si sviluppa appunto tra questi box tra loro i box stesso la promo le promo card i divider eccetera e questo è un enigma letterario da risolvere una specie di giochino da settimana enigmistica anche qui è stato risolto chiaramente in inglese però vabbè si può trovare la soluzione dopo ve la diremo se volete e il mystery file qui invece è the intriguing interview quindi l'interrogatorio intrigante quarto sono i clue token quindi le pedine indizio ciascuno dei cinque token che è stato presentato già ampiamente ha un flower text che è memo quindi una nota e in più l'art stessa sembra avere appunto un messaggio in codice dovrebbe essere in ravnicano quindi attaccato con le lettere come l'assassino e dei cinque che abbiamo allora c'è il 14 che dice quattro impronte più un'arma del delitto equivalgono a un caso da cui nemmeno iuri riuscirà a liberarsi 15 risolto il caso dello scippo di natale forse possiamo finalmente capire chi ha lasciato scarpe in tutto il sesto distretto come sospettavamo sembra che qualcuno abbia preso di mira proprio tolsimir qualunque cosa sia il solo odore potrebbe stordire un losodonte c'entrano i simic e poi confiscato ai gemelli ereditieri della famiglia lusat non sarà facile da aprire quindi anche qui abbiamo questo come per il precedente mystery file la soluzione è stata trovata in realtà qui l'aiuto è arrivato dai mazzi precostituiti che hanno dato una grande mano anche questo poi la vedremo mystery file collegato è The Confounding Kidnapper quindi il sequestratore emblematico sempre per i clue token direi quinto indizio sempre per quelle carte c'è anche il rovescio della medaglia quindi se girate e messe tutte vicine formano un panorama quindi una di quelle scene in cui tutte le carte vicine fanno un'immagine sola ed è una scena del crimine ci sono diversi numeri in quella scena segnati o nascosti in giro ricapitoliamo qui giusto per averli tutti quindi le monete su cui ci sono uno due tre cinque sette otto nove quindici e sedici le macchie di sangue che sono uno sette undici tredici le crepe sul pavimento quattordici nove otto cinque tre le due barriere magiche dell'agenzia quelle che usava anche Kellan che hanno il numero sei e il numero dodici il pugnale di destra che riporta il sette e l'impronta nella lente sulla scarpa diciamo è l'undici poi ci sono su quelle note anche numeri di operazioni che potrebbero svelare il valore di alcuni simboli in ravnicano quindi sono delle come se fossero delle equazioni come vedete lì che hanno dei simboli strani e poi ci sono gli oggetti stessi perché tipo il riccio del pugnale spezzato sembra proprio un tre il medaglione aperto forma un otto quella specie di microscopio che è una lente di fatto è un sette la corda a sinistra fa una specie di due e il drone ha il tondo che è uno zero è un po tutto non si capisce molto e di questo enigma infatti non si ha ancora soluzione probabilmente serve qualche altro dato che ci verrà appunto spiegato nei misteri file tant'è che non sappiamo a che misteri file appartiene e se voi avete qualche idea esponetela pure poi sesto è le impronte social quindi sui vari social di magic della wizard sono apparse delle impronte le emoji delle impronte e disseminate qua e là e in più anche dei pezzi di mappa c'è il tweet dell'8 gennaio la talpa con l'impronta e la mappa che è chiaramente stata messa lì per essere vista perché è fatto proprio male è una cosa proprio un po' cringe poi il post di instagram del 10 gennaio con jaded analyst con la mappa e un'impronta più uno post di facebook del 12 gennaio e il case file editor con la doppia mappa e le due impronte un video di tiktok del 15 gennaio dove c'erano un po' di immagini sparse ma a un certo punto comunque c'era una mappa nel case of the flitched falcon con un'impronta più uno reel di instagram del 17 gennaio immagine finale con appunti del caso e mappa più tre impronte tweet del 19 gennaio scrivania con pezzo di mappa e segno di spunta e poi subito dopo quel tweet altro tweet con appunti uniti tutti da linee prendendo tutta questa cosa si ottiene quest'immagine del decimo distretto per ora non si capisce se è solo legata alla lore oppure se c'entra con un mystery file che per adesso non è ancora stato rivelato quindi non la metterei tra le soluzioni perché lì abbiamo solo messo insieme i pezzi di mappa quindi non si capisce bene poi settimo sulle carte sulle arte anzi delle carte abbiamo tre almeno carte tre sì tre carte dove ci sono delle cose tranne cioè il caso del bacio della gorgone quindi che oltre ad aver chiaramente dei riferimenti a una nota planeswalker ha di strano che ci sono due art ma le due art non sono diverse o meglio sono diverse nel senso che l'unica differenza è che in una c'è il cuscino verde sulla sedia e nell'altro c'è il cuscino rosso cosa vorrà dire? chi lo sa ficca naso clandestino ha due versioni artistiche una con le tende bianche e una con le tende rosse in topo inaspettato anche lui ha due versioni una con la bottiglia nera sopra la testa del minotauro e l'altra con la bottiglia verde anche qui non si sa bene saranno indizi utili magari per risolvere qualche altro mystery file che per adesso non ci è dato sapere ottavo e ultimo sono le duals le tupland dual le grandi attese di questo set perché da un po' che non si avevano terre doppie fecciabili perché ricordiamo che queste terre avranno il sottotipo della terra base da vedere quanto verranno impiegate ma questo non ci interessa ora a parte la loro utilità hanno un bellissimo easter egg questo è molto carino se si prendono quelle con le arte estese quindi quelle senza bordo e le si allinea una mettendola vicino all'altra salta fuori un messaggio nascosto come potete vedere qui sono delle lettere e dei numeri anzi in operazione rna 32x5 più 4 in più prima di passare a che cosa potrebbe essere in più nella versione cinese identica ma in cinese mancano i punti alla fine di alcuni testi la cosa è un po' strana e non è mai avvenuta e un po' sospetta non può essere un errore di stampa non così può capitarne uno ma non tutti quindi anche qui almeno per l'equazione c'è una soluzione più o meno ovvia per i puntini vi dico di aspettare se volete dopo ve la spiegheremo quindi per la prima parte direi che c'è tutto quindi questi sono gli indizi trovati, raccolti e mostrati se volete capire anche come sono stati risolti oppure come abbiamo pensato di risolverli noi andiamo avanti con le soluzioni già trovate quindi spoiler cominciano se non volete rovinarvi la sorpresa volete trovarvele da solo fermatevi qui e quindi basta allora partiamo dal dado la soluzione in realtà è potrei dire che è un po' a metà quindi con la magia della post produzione quindi adesso metterò qui nel video la foto fatta in una stanza buia con la luce rossa appunto sia la luce proprio della stanza sia puntandoci il flash attraverso il dado vedete che appaiono dei simboli a parte i cerchi quelli che sono un po' ovunque che non hanno dei trattini all'interno gli altri hanno delle linee che se collegate danno delle specie di percorsi queste linee sì saranno dei percorsi o dei simboli non hanno un significato ovvio per ora però quantomeno abbiamo questi disegni probabilmente quando uscirà il caso si capirà dove metterli quindi questa è diciamo soluzione a metà per questo motivo perché è stato trovato il disegno ma non si capisce a cosa serve artbox anche qui come per il precedente direi soluzione a metà perché la strana finestra si può risolvere seguendo praticamente tutte le varie indicazioni questa potrebbe essere non lo so se ci sono più di una soluzione però questa potrebbe essere una delle soluzioni e anche questa direi la teniamo da parte perché è stato risolto l'enigma ma non si capisce a che cosa serve terzo il kit della pre-revis questo qui invece è risolto completamente seguendo le istruzioni che ci sono sulla storia si può creare la seguente successione quindi si parte da detective story si aggiunge la n i mapi la e rumor gate eccetera eccetera si fanno tutte le sostituzioni come qui presentato e si arriva a murder investigation murder investigation è la carta omonima del set gate crash e questo è l'indizio che ci viene dato quindi ci viene detto una particolare carta tenetelo lì per ora perché a differenza dei due precedenti questo è risolto completamente ed è importante questa cosa ma per adesso teniamola lì perché poi la riprenderemo nella terza parte del video clue token quindi il pedine indizio anche questi risolti in realtà il flavor text che sembrava la cosa più importante non è quello che poi è stato ha portato alla soluzione perché come dicevo sono stati trovati dei decodificatori nei mazzi precostituiti e quindi era semplicemente il gioco era decifrare le lettere sul foglio per essere indirizzati verso la soluzione traducendo si ottengono delle carte che sono The Disguise Revenant Recon Deep Clue Sea e Blame Game analizzandole perché non era finito lì si trovano degli indizi per trovare un'ulteriore carta allora da The Disguise salta fuori che il valore in mana di questa creatura è uguale al numero di occhi che possiede un ciclope quindi sappiamo che è una creatura e che ha costo 1 Revenant Recon a meno che qualcosa non causi la perdita delle abilità di questa creatura non può attaccare quindi anche questo Deep Clue Sea la parola alla fine del flavor di quella carta significa all'opposto di End quindi di fine e Blame Game se sottrae 3 alla costituzione di quella creatura ottiene la sua forza quindi è una 0-3 una 1-4 o qualcosa del genere mettendo tutto insieme anche qui si ottiene una carta che in questo caso appartiene a Fedeltà di Ravnica e vabbè questa la possiamo tirare fuori qui senza aspettare dopo e direi che è il custode di Saruli quindi questa qui è risolto completamente con carta anche questa carta tenetela lì perché dopo ne riparleremo gli altri casi in mezzo abbiamo detto che non sappiamo bene come risolverli passerei direttamente alle dual quindi delle dual abbiamo detto che mettendole tutte insieme vicine si formava quella stringa quel testo con una parte che era RNA che evidentemente è l'edizione e una parte matematica che è 32 per 5 più 4 che se moltiplicato e sommato fa 164 quindi è un collector number di una carta di fedeltà di Ravnica anche lì andiamo a vederla fra un attimo invece per la versione cinese abbiamo detto che mancano dei punti sulla carta quindi lì si è pensato al codice Morse quindi mettendolo insieme si ottiene il codice punto 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 linea punto linea punto linea linea che appunto in codice Morse dovrebbe essere J C T E la carta che dicevamo prima quindi la 164 di fedeltà di Ravnica è questa carta qui quindi è il Colt Guild Mage che lì sotto ha il pupazzetto di Jace e come dicevamo prima nel codice Morse invece J citi e si dice ripeto forse un po' tirato forse sono supposizioni forse siamo un po' condizionati ma si dice in giro che stia per Jace the true ending quindi la vera fine di Jace è il Painswalker che dicevamo è stato citato da tutti un po' nell'episodio 7 quando è apparso nella testa di Proft effettivamente il pupazzetto di Jace c'è quindi c'è poco da dire qualcosa c'entra sicuro fermi lì però questo per quello che i dati che abbiamo le soluzioni trovate adesso dobbiamo passare alla terza parte del video quindi altri spoiler congetture e andiamo un po' oltre quindi anche qui se volete fermarvi senza passare alla soluzione che noi di un po' tutto che abbiamo pensato fermatevi qui se invece volete proseguire nella tale del bianconiglio bene andiamo avanti quindi partiamo proprio da quest'ultima carta trovata colt guild mage di fedeltà di ravnica abbiamo detto che ha il pupazzetto di Jace che è facilmente visibile cioè non si può non vedere è fatta apposta e la cosa che ha incuriosito un po' tutti è che questo pupazzetto è facilmente visibile anche su un'altra carta che questa volta però è del set di questo set quindi di delitti e questo è il case of the stashed skeleton che in italiano è il caso dello scheletro nascosto lo vedete lì sotto quindi molto probabilmente tutte le soluzioni dei vari enigmi portano inizialmente a una carta vecchia di ravnica di una delle edizioni di ravnica e queste carte vecchie in queste carte vecchie poi bisogna trovare qualcosa che viene ripreso nelle arte di quelle nuove questa è un'ipotesi anzi una meta ipotesi perché sono tutte congetture derivate dal fatto che le soluzioni trovate avevano questo in comune poi vi farò vedere quindi questa meta ipotesi se fosse vera significa che noi possiamo farlo su quelle di cui abbiamo le soluzioni ma possiamo anche andare a cercare tutte le altre carte e vedere se troviamo delle art che combaciano e se ne trovassimo una dozzina o forse tredici probabilmente le congetture sono vere quindi cominciamo a fare questo esercizio partiamo dalle tre art delle carte che sono sicuramente una soluzione di quelle che abbiamo detto nel punto 2 allora abbiamo detto il cult guild mage con jace e il quindi il mago della gilda del culto con il caso dello scheletro nascosto al pupazzetto di jace e questa lo sapevamo già poi murder investigation l'indagine per omicidio con l'investigatrice di omicidi quindi con la nuova carta di delitti ha chiaramente il cadavere con i tre pugnali quindi anche questa è collegata per forza custodi di saruli anche quella abbiamo detto che è una soluzione quindi saruli di caretaker ha in comune con detective imprudente la vianda che chiaramente portano tutti e due in mano quindi queste tre sembrano ricalcare appieno tutta la nostra narrazione detto ciò proviamo a estendere questa cosa anche ad altre carte vediamo queste qui che vi presentiamo non sono parte di una soluzione ma sono chiaramente molto sospette e sono in qualche modo legate sicuramente saranno dentro nei mystery file che non abbiamo ancora risolto quindi paranoid delusions fissazioni paranoiche che sono collegate a rapina riprovevole infatti la candela è la stessa la cariatide intagliata che è collegata alla pantera topiaria quella che c'era nel giardino di teisa qui se vedete c'è la rosa gialla sulla spalla della pantera e nell'altra immagine ce ne parecchie poi gioco al massacro slaughter game con caso della prova rubata la maschera a forma di teschio ritrovamento prezioso treasure find con estrarre una confessione se vedete c'è la collana con il teschio anche se di qui è un po' piccolina ma è proprio quella charity extractor l'estrattore di carità che è praticamente riprende lo schiocca frusta crawl il piatto quello dell'offerta che tiene in mano è lo stesso chiuso nei rampicanti lo spettro della cripta crypt ghast che riprende in melma del reato la maschera nera la maschera la maschera nera che c'è lì crash landing schiantare con l'investigatrice vogec la piuma blu che tiene in mano è chiaramente una piuma blu della creatura cry of contrition il grido di contrizione che se vedete nel testimone di granito viene ripreso non si vede benissimo a un primo occhio ma se date uno sguardo approfondito il gargoyle piccolino quello a sinistra nella prima è lo stesso che c'è in basso a destra nella seconda sanguine praetor il praetore sanguinario che invece viene ripreso in invadere la mente che è appunto quello di cui dicevamo prima dell'episodio di prof qui c'è il teschio con le fiamme blu che sta nel palazzo mentale nicchia delle antiche usanze con il tessitore luccicante qui è il terminale del bastone con la specie di cranio animale su entrambe e con questa finiamo quindi si sembrerebbe proprio che siano 13 se non sbaglio si sono 13 e quindi tutte queste carte hanno qualcosa nell'art in comune con le nuove quindi sono state fatte apposta le nuove riprendendo qualcosa da quelle vecchie seppur i loro colori cioè il colore proprio della carta piuttosto che gli effetti che hanno non sono strettamente legati anzi alcuni sono dei casi altri degli istantanei creature eccetera come dicevamo almeno tre di loro sono già fanno già parte delle soluzioni dei mini enigmi quindi quelle sono in qualche modo coinvolte le altre secondo me salteranno fuori come si collegheranno tutte non lo so però pensate anche voi quello che pensiamo noi sono parte della soluzione dell'enigma finale che cosa ci stanno tentando di dire e soprattutto Jace è solo stato usato come ispediente oppure il fatto che in queste carte gli unici due planeswalker citati siano Jace e la Gorgone in realtà Vraska non viene mai citata ma di fatto c'è vuol dire qualcosa fateci sapere nei commenti le vostre idee e se siete magari riusciti anche a risolvere qualche altro mistero magari in una pre-release o in qualche altro evento a cui avete partecipato per oggi è tutto direi che c'è tanta roba sul piatto quindi vi lascio ragionare e magari riguardare un po' le parti del video ciao a tutti a presto